Taranto e la Puglia ospiteranno l'edizione 2026 dei giochi del Mediterraneo. La decisione della Commissione internazionale a Patrasso, in Grecia, premia il lavoro del Comitato Promotore Ionico. È una grande opportunità non solo sul piano sportivo, ma anche su quello economico. A Taranto per 2026. È un'enorme soddisfazione quella del voto unanime dell'Assemblea dei Paesi Olimpici del Mediterraneo. Per noi ovviamente è una grande responsabilità, una bellissima vittoria. Siamo entusiasti ma in pochi secondi siamo passati dalla gioia alla responsabilità di dovere nei prossimi sei anni organizzare tutto a puntino perché questi giochi siano i più belli che siano mai stati organizzati. Siamo molto contenti perché è vero che oggi è una festa dello sport, ma io credo che aver incardinato questo progetto ambizioso nel piano strategico per Taranto significa chiaramente raccontare ai nostri cittadini che stiamo lavorando per cambiare il volto di Taranto. Quindi non soltanto le infrastrutture, non soltanto le associazioni sportive, non soltanto un grande evento, ma una prospettiva nuova per l'immagine della città, per le potenzialità che finalmente diventano concrete per il nostro territorio. Quindi si parte da lì con una scadenza che ci impegnerà tutti quanti a lavorare assiduamente, con trasparenza e con molta cura in vista del 2026 che sembra ormai ufficiale, ma ripeto oggi è un momento storico per Taranto perché è una svolta, è molto più di un evento sportivo.